Ben ritrovati, una doppia ultima ora legata al Milan, mi raccomando commentate numerosi, lasciate un like e iscrivetevi da questa parte ed è che arriviamo oggi forse a 19.000 iscritti, ci tengo tanto. Allora, la prima riguarda Popovic, il talento ex-partisan svincolato il 31 dicembre che ha fatto l'8 gennaio 18 anni come sapete nel video precedente l'abbiamo raccontato, problemi con il Milan per via delle commissioni eccessive richieste dall'entourage del giocatore affare che è in salita, non è ancora tramontato definitivamente però attenzione, risulta che ci sia stato nelle ultime ore un sondaggio della Juventus e quindi la Juve prova a fare quello che aveva fatto con Caio George che poi non ha fatto grandi cose, si era fatto anche male, ricorderete cioè inserirsi e prenderlo al posto del Milan vediamo gli sviluppi, quindi clamoroso blitz tentativo della Juventus, sondaggio al momento che vedremo se porterà alla spunta verde per la Juventus oppure no si sta parlando ancora con il Milan, attenzione perché sta per arrivare anche una nuova offerta per la De Krunic, contatto in corso tra il Milan e il Fenerbahce che dovrebbe alzare l'offerta, avvicinarsi ai 5 milioni di euro cifra che potrebbe portare al via libera per l'uscita di Krunic che come sapete è un corpo estraneo al Milan ormai non gioca più, non viene neanche convocato insomma è in uscita vediamo se questo può portare poi all'entrata di 5 milioni di euro e a sbloccare anche un'operazione in entrata e in difesa con Brassie che è il giocatore con più possibilità anche se il Milan sogna buongiorno del Torino a fare sicuramente non facile, anzi difficile seguiamo ovviamente l'evoluzione detto che poi tra poco il Milan scenderà in campo con in avanti Leao, Jovic al posto di Giroud e sulla destra Pulisic in difesa gabbia ditemi che ne pensate delle due situazioni mi raccomando commentate numerosi qui sotto lasciate un like, iscrivetevi da questa parte attivate anche la campanella mi raccomando ci tengo, arriviamo presto a 19.000 iscritti magari già oggi magari sarei tu il numero 19.000 un abbraccio e buona partita un saluto a tutti e grazie come sempre per l'attenzione a presto